Questo è il mio codice e adesso vi spiegherò come funziona e come ottenere il bonus di 40 euro. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Matteo e oggi voglio parlarvi di BuddyBank. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e se vi piace il mondo camper e della tecnologia attivate la campanellina per non perdervi i nuovi video e iscrivetevi al mio gruppo Facebook delle offerte dove giornalmente pubblico le migliori offerte tech e non solo. Un modo diciamo per farvi risparmiare un pochino. E parlando di risparmio finalmente parte l'iniziativa di BuddyBank, Super Buddy di BuddyBank. Ho scelto BuddyBank un anno fa come il mio conto corrente personale perché è il modello di banca di unicredit pensato solo per smartphone. Aprendo un conto corrente BuddyBank e utilizzando il mio codice invito che vi lascio qua sotto dal 12 ottobre 2021 fino al 14 gennaio 2022 si potrà ricevere un bonus di 40 euro sul proprio conto corrente. Purtroppo non posso farvi vedere la procedura di richiesta di apertura a conto perché sono già clienti ma vi lascio qui sotto in descrizione un link ad un tutorial che spiega la procedura di come fare. Bene ragazzi il bello è che una volta aperto il conto corrente potrete invitare anche voi i vostri amici e ricevere ulteriori bonus fino a 240 euro. Per conoscere comunque tutte le condizioni ti invito a leggere le istruzioni del link qui sotto in descrizione. Io vi posso raccontare la mia esperienza con BuddyBank. Come vi ho detto offre un conto corrente che si gestisce totalmente ragazzi da smartphone tramite la sua applicazione che nel tempo è molto migliorata. La sua caratteristica che io secondo me trovo geniale è che avete la possibilità di contattare l'assistenza via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Parliamo comunque di tempistiche e di apertura del conto perché magari qualcuno di voi si sta chiedendo. Naturalmente BuddyBank sta già ricevendo parecchie richieste di apertura a conto quindi la procedura potrebbe richiedere qualche giorno in più effettivamente del solito però non preoccupatevi perché ragazzi alla fine ne vale la pena alla grande. Vi ricordo poi che con BuddyBank offre un conto corrente a canone zero gestibile totalmente tramite l'applicazione. Ma cosa possiamo fare con il conto corrente e con l'applicazione? Possiamo fare veramente tutto? Assolutamente sì ragazzi. Possiamo fare la scansione diciamo con la fotocamera la scansione dei bollettini postali senza dover stare lì tutte le volte a compilarli eccetera eccetera ma si possono anche effettuare tantissime operazioni come magari pagare il bollo auto, le carri telefoniche, l'F24 semplificato insomma tutte le operazioni che possiamo fare con i conti online oltre che naturalmente i bonifici SEPA che sono gratuiti così come lo sono i prelievi su tutti gli ATM delle rete Unicredit. Infatti una delle funzioni dell'app che a me mi è piaciuta tantissimo è proprio il trova ATM Unicredit per localizzarlo dovunque ci si trovi e l'indicazione della filiale con la distanza. Inoltre con il conto avremo anche la carta di debito del circuito internazionale Mastercard che possiamo abilitare al pagamento tramite Apple Pay o Google Pay. Inoltre tutti i clienti hanno accesso all'assistenza bancaria disponibile H24 semplicemente premendo il tasto nel mezzo l'icona centrale dell'applicazione. Se poi vorrete attivare il modulo Love che è a pagamento allora avete accesso anche all'esclusiva Concierge Lifestyle fornita da Quintestenza SRL e nel canone del modulo Love è compresa anche la quota anode, una carta di credito cioè vi danno un'altra carta di credito invece che di debito e le commissioni per il perlievo con la vostra carta di debito è gratuita su tutti gli ATM anche di altre banche in Italia e all'estero. Però per sapere tutto vi invito a consultare il sito che vi lascio qui sotto in descrizione ai video. Insomma io sono cliente da un anno e non posso fare meno ragazzi di consigliarvi Body Bank tanto più che ora potete ricevere e far ricevere ai vostri amici il bonus dell'iniziativa SuperBuddy di 40€. Vi ricordo ovviamente che inizialmente potete utilizzare il mio codice invito e andare direttamente sul link che trovate in descrizione per richiedere l'apertura del conto che ragazzi è semplicissimo. Bene ragazzi che dire io mi sto trovando benissimo con Body Bank e gestire tutto da smartphone per me è una cosa utilissima. È tutto gratuito senza nessuna spesa di apertura o gestione e poi l'assistenza bancaria è molto rapida. A qualunque ora del giorno, della notte, qualsiasi ora ragazzi al contrario delle banche fisiche dove per fare magari una semplice domanda a volte ci vuole mezza giornata tra telefonate e mille cose insomma ne vale davvero la pena. Ripeto vi lascio qui sotto in descrizione ai video il link per aprire il conto in modo semplice e veloce e ottenendo in più anche 40€. Quindi ragazzi cosa vedete? Bene ragazzi lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto è un modo per supportarmi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!